effettuare la selezione sistemi operativi parametri normali il piano superiore jacob cerca la clinica 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 la politica credibili la gente ci vivesse Sì, beh, non avevano scegliato, poi il volo non c'è ancora. Cos'è quella cumula? Non c'era quella. No, non allora. Era la miniera. Arrivava fino in superficie. Perché? Non lo so, ma dobbiamo passare di lì per tornare alla prigione. Sì, sono la dottoressa Katie in mare e vi do il benvenuto alla stazione di Archivio. Non vediamo l'ora di condividere le nostre scoperte. Vi ricordano i ricetti di ricerca. Chi si rivolge? Non da noi. Cerco di scaricare più dati possibili. Ci vediamo dentro la cupola. È iniziata con una chiamata di emergenza. Un contagio misterioso su Calvisto. La sintomatologia è la fiscina. È familiare. È una forma di evoluzione accelerata, simile a quella scoperta apparata. Riusciremo a capire la vantica. Una volta in sicurezza il sito, è stato costruito un laboratorio. E poi una città. Una base di ricerca con tante carri e ricette. Dopo decenni di ricerca, siamo vicini alla fonte. La fonte da cui è partita. Un nuovo futuro. E' un nuovo futuro. Cristo santo, cos'è quell'uomo? Una creatura aliena, liberata dai minatori quando hanno penetrato l'oceano sotterraneo di Calvisto. Era già morta, uccisa dalle forze di sicurezza. Nella carcassa, però, abbiamo trovato migliaia di larmi. Vettori di malattie per il patogeno biologico. Abbiamo raccolto dei campioni e li abbiamo portati al laboratorio. Su Europa. Europa, il patogeno ha agito da acceleranti e evolutivi, mutando i coloni poco più che miserabili nostri. Eccetto il cosiddetto soggetto di zero. In qualche modo è riuscito a ottenere solo i benefici, forze, esistenza e longevità, preservando la propria ragione e umanità. E' stato ucciso dalle forze di sicurezza. Il suo corpo è stato portato al laboratorio di Blackhide per avviare il programma di ricerca originale. Oh Cristo. Cinque, due, uno! Io e te abbiamo un affare in sospeso. Ah, ma le fai. Come vedi, le cose sono cambiate. Jacob, la porta per la superficie. Però non si apre. Ehi! Ah, ma la porta per la superficie. Non si apre perquè non si apre Unitale, non si apre. L'ho quasi fatto! Nessuno può sfrutturare niente, capito! Nessuno! Ci hanno dato troppo bene! Cercherò soltanto una libertà, ma presto. Sarà uno più. Tutto ok? Sto bene. Non fermiamoci. Quella piattaforma ci porterà in superficie. Sto bene. Ehm... ...l'ho fatta anche? Se l'abbiamo fatta... Dani! Dani! Ehi, 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 ehi! Coraggio, non alzati. Stai bene. E tre. No, no, no. Non è giusto. Mertà. Ho promesso di fermarli. Non diventerò una di quelle cose. No, 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 no. Ok, non succederà. Senti, troveremo. Come? Ci atterremo al piano e arriveremo fino alla torre del direttore. Ci sarà il modo di invertire il processo. Non puoi saperlo. Lo troverò. Ma non ci arrenderemo adesso. Arriveremo fino in fondo. Insieme. Ok? Ok. Ok. Dai! Alzati! Stai bene? Per ora. Questa ti servirà. Ok? Ci siamo quasi. Il riconosco quest'aria. Dove siamo? Scopriamolo. No. 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 Effettuare la selezione. Yes. No. 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 Stampe. Controllo qualitativo. Ok. Ispezionare la stampante prima dell'uso. Sgomberare l'area di assemblato. La mia pazienza si è esaurita, Mother. Ormai sono quasi sei mesi. Sono vicina a comprendere il miofogo, Q. A imbrigliarlo con il soggetto Zero. Mi serve un po' di tempo. No. Quanto è accaduto su Europa? È stata una tragedia. È stata una rivelazione. La prigione ha un pilota automatico. Il sistema è andato a puttana. Ce l'ho quasi fatta. La cella è disoletta. La cella è infettata. Dobbiamo andarcene da qui. Buona idea. Il segnale del direttore è ancora attivo nella torre. Possiamo raggiungerlo? Pare che sì. Mi occupo della porta. Vediamo. Tornate alle celle. Cosa è successo? Dani, mi senti? Dani? No, cazzo. Non ci credo. Di nuovo ho un punto di potenza. Non so proprio che cosa dovrei fare. Mi trovi. Maler. C'è rimasto poco tempo. Ho dirottato un'unità di sicurezza e Dani è con me. Dov'è Dani? Il laboratorio al centro della prigione. Lui controlla tutto, ma qui possiamo parlare. Posso portarla dal direttore e curare lei. Voglio aiutarvi. Lei? Lei mi ha sparato questa roba nel collo? E adesso vuole aiutarmi. La prego. Deve sbrigarsi. Mi trovi, Jacob. Come? C'è una stanza più avanti collegata a un'area che di solito è off-limits per guardie e prigionieri. La raggiunga. Io la farò entrare. Le sgombro la strada. La raggiunga. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 Grazie a tutti. 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 a tutti.